Ciao a tutti, questa sera facciamo una zuppa buonissima di piselli e patate. Vi do gli ingredienti per una porzione singola, bisognerà semplicemente moltiplicare i quantitativi tranne le spezie. 130 g di piselli sgusciati, 250 g di patate, una cipolla, se vi piace dell'aglio, un pochino di rosmarino e come spezia utilizzo mezzo cucchino scarso di brodo granulare di verdura, dell'aglio in polvere e del pepe macinato. E infine ma non per ultimo, lui il nostro ingrediente segreto. Procediamo. Ma prima vi ricordo che la lista completa degli ingredienti è qui sotto nella descrizione e vi invito a visitare il mio canale youtube e iscrivervi, è gratis, così non vi perderete neanche una ricetta e cercatene altre, ce ne sono oltre 400. Sgusciamo i piselli, peliamo e tagliamo a dadini le patate, lo stesso faremo con la cipolla e se vi piace anche l'aglio. Al lavoro! In una casseruola versiamo la cipolla, le patate, se vi piace aggiungete anche l'aglio, io ne aggiungo un pezzo intero e uno spicchio tritato a pezzettini. Aggiungiamo anche i piselli, il rosmarino e le spezie, il brodo granulare di verdura e se vi piacciono anche l'aglio in polvere e il pepe macinato. Copriamo tutto con acqua e aggiungiamo lui il nostro ingrediente segreto e fuoco alle polveri. Non ci rimane che cuocerlo mescolando di tanto in tanto e una volta cotto basterà impiattarlo, ma prima dovremo togliere l'ingrediente segreto e il rametto o i rametti di rosmarino. Un consiglio, se volete che sia più cremosa schiacciate delle patate e dei piselli. Ed ecco impiattata la nostra favolosa zuppa piatto unico e a questo punto aggiungiamo un filo d'olio extravergine di oliva, un cucchiaino di formaggio grattugiato, grana, pecorino, quello che più vi piace e prima di augurarvi buon appetito vi svelerò l'ingrediente segreto. È una foglia di alloro che darà veramente più profumo e più sapore al nostro piatto. Mi raccomando condividete la ricetta con chi ha bisogno di perdere peso ma non vuole fare troppa fatica. Ciao al prossimo video!